Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo al 18 giugno, rispetto a poco meno di un mese fa, era il 21, 22, 23 giugno, c'è una retorica opposta su di noi rispetto a quello che era accaduto a giugno. Eravamo una società che tagliava le teste e che non spendeva i soldi, siamo diventati la squadra che sa investire e programmare bene, che sa fare pre-air trading, e che è scatenata sul mercato. Io di fronte alle iperboli di un senso, di un segno e nell'altro senso, di un altro segno, sono sempre scettico, perché noi non eravamo quelli che a giugno e non siamo quelli che adesso, siamo sempre gli stessi. E il comportamento del Milano in questi anni sul mercato mi sembra sempre abbastanza lineare, alcuni criteri base, senza dogmi, senza articoli di fede, di utilità, sostenibilità a livello di montengaggi e di politica, di bilancio. Adesso andiamo avanti a parlare del nostro mercato. Lasciatemi ricordare One Football. One Football la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di One Football, l'app di One Football vi aspetta, l'app di One Football è totalmente gratuita, l'app di One Football è stata scaricata da tantissimi sportivi italiani, scaricate anche voi l'app di One Football, l'app di One Football vi aspetta, l'app di One Football è totalmente gratuita. Quindi cerchiamo di lavorare in team, il rispetto della storia del Milan è garantito, possono esserci visioni diverse, situazioni aziendali un po' così, ma questo non è in discussione, cioè non è che eravamo piccoli, brutti e cattivi a giugno, adesso siamo belli biondi con gli occhi azzurri, no, 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 stiamo facendo il mercato, oserei dire, normale che bisogna fare se si fa una grande cessione. Noi adesso facciamo tre nomi, no? Musa, Daniuma e Taremi potrebbero occupare, ingaggi compresi, la parte restante del nostro budget. Senza la cessione di Tonali il nostro mercato sarebbe stato questo, un centrocampista da 18-20 milioni, un prestito e una punta su cui investire 20-25 milioni. Invece abbiamo ceduto Tonali e aggiungendo il ricavo, perché il Milan non fa le cessioni per tenersi i soldi, era così con Elliot e così con Redbird. Il Milan fa la cessione per investire i soldi sul mercato in entrata, come accade per i proventi da attività sportiva, i proventi ricavi dalla qualificazione Champions o dello Scudetto. Io mi permetto di aggiungere che oltre a Sportiello e Luca Romero, oltre all'Oftus, a Polisi e a Renders, abbiamo rinnovato le AO. Io questo lo ricordavo anche nei giorni bui di Ibra Maldini-Tonali. Io mi permettevo di ricordare che lo sforzo economico fatto dal Milan, lo sforzo politico, lo sforzo di sensibilità di mediazione fatto dal Milan in una vicenda tremenda come quella del rinnovo di Leao, non viene. Ragazzi, ci sono state così tante critiche, ci sono stati così tanti sberleffi per i giocatori che andavano via a zero, ma tutti i rinnovi che abbiamo fatto invece tendono la narrazione dominante, perché c'è una narrazione dominante, tende a farli passare quasi per inosservati. Cioè riuscire a rinnovare un giocatore sul cui capo pende una multa a 19 milioni di euro è un numero d'altissima scuola, però la narrazione dominante l'ha fatto passare inosservato. Cos'è la narrazione dominante? La narrazione dominante lo sapete qual è. Lo sapete qual è? Che se c'è il derby di mercato perso tu sei beffato, umiliato, schiaffeggiato, se invece succedono altre cose, beh vabbè no, beh niente, ecco, questa è la narrazione dominante. In tutto questo il senso non è tanto la battutina su cose che sono di pubblico dominio, perché poi succede a volte che le cose le dicono tutti, ma se le dico io viene fuori il fin di mondo. Che il calendario del Milan all'inizio stagione sia un po' duro? Ragazzi è nei fatti, ma è chiaro che è una discussione calcistica, è una considerazione calcistica rispetto all'inizio stagione duro di un club. L'han detto tutti, l'han detto Filippo Galli, Arrigo Sacchi, l'han detto fior di opinionisti, fior di ex giocatori, lo dice su una scoppia il fin di mondo. Va bene, va bene, va bene. Però torniamo a noi, lasciamo che stare le cose sterili che non interessano nemmeno a voi. Io dico semplicemente questo, dico che in questo momento i tre nomi che ho fatto non sono nomi fatti a caso, la giornata di oggi è stata dedicata dal Milan ad approfondire il tema Daniuma, il tema Musa e magari anche il tema Taremi. Taremi mi sembra che il Porto alla fine lo voglia tenere perché c'è sui siti portoghesi un movimento d'opinione per tenere Taremi, che per loro è molto importante e quindi non so quanto sarà semplice. Al di là del fatto che piaccia o non piaccia, che sia utile o non sia utile, io credo che dal Milan sia considerato un giocatore forte e nell'ultima stagione lui abbia dimostrato di essere forte. Però mi sembra una trattativa abbastanza dura, abbastanza difficile come quella per Ciucueze, tant'è che oggi i nomi che sono stati fatti di più sono stati quelli di Musa, il centrocampista statunitense del Valencia, che è un giovane, che è un interditore, che è una mezzala, che è un cursore, che è un corso degli anni, applicandosi tanto, e Dani Humà che potrebbe essere, rispetto a Ciucueze che costa 35 milioni di euro e ad altri nomi, tipo quello di Isaksen, tipo quello di Adama Traorè che sono stati fatti, potrebbe essere il giocatore in grado di mettere tutti d'accordo all'interno del team collegiale di mercato del Milan. Però questo bisogna vedere, bisogna vedere la giornata di oggi per Giorgio Curlani, quale significato ha avuto di lavoro, di contatti, soprattutto con i club spagnoli. Ecco oggi è stata un po' una giornata spagnola per il Milan. Vedremo a che cosa ci porterà, vedremo quali saranno i rumors di serata, cercheremo di capire insomma dove continuerà ad andare a parare il nostro mercato. Era un punto nodale Reinders, ci ha portato via un po' di tempo, non siamo quelli del 2017 delle cose formali, non vogliamo nemmeno essere quelli dell'acquisto alla settimana, vogliamo semplicemente essere tranquilli, vogliamo semplicemente essere valutati per quello che siamo. Non eravamo un disastro a giugno, non siamo adesso dei miracolosi o dei miracolati, siamo sempre il club che fa le cose che è giusto e possibile fare per un club italiano. Un club italiano non può indebitarsi, non può fare passi più lunghi della gamba, può e deve rafforzarsi per investire quello che essendosi rafforzato guadagna con i propri risultati di campo. Quindi questo è. Questo è il lavoro che stiamo facendo, il lavoro che ci aspetta, il lavoro che abbiamo fatto nell'estate del 2022 e il lavoro che stiamo facendo nell'estate del 2023. Cioè io vedo una straordinaria coerenza. Chiaro che in questa estate abbiamo a disposizione più soldi per fare mercato, perché abbiamo ceduto tonali. Avessimo potuto avere ad esempio i proventi del nuovo stadio, quest'anno avremmo avuto gli stessi soldi, però purtroppo non è ancora così, è più tardi.